Ed ecco qua invece una tabella riassuntiva di tutte le misure che abbiamo a livello dello stretto superiore, dello stretto medio e dello stretto inferiore. Ho messo a parte la coniugata in diagonale perché a mio avviso rappresenta un repere anatomico molto importante che dobbiamo andare sempre a misurare nel momento in cui troviamo una donna in sala parto. Altro repere da un punto di vista semiotico che in sala parto dovremmo sempre andare a conoscere è la losanga di Michelis. Rudolf Michelis fu un ostetrico di Kiev morto suicida a cavallo tra il 1800 e il 1900 e che andò a studiare molto attentamente il bacino della donna e in particolare andò a descrivere quella losanga che prende appunto il suo nome, la losanga di Michelis appunto. La losanga è delimitata da quattro punti di repere che sono il punto di repere più superiore che è dato dal processo spinoso dell'ultima vertebra lombare, dalla spina iliaca postero superiore lateralmente e dall'inizio del solco intergluteo inferiormente. Ora, la losanga di Michelis è molto importante perché ci consente di valutare la pervietà dello stretto superiore. In particolar modo questa normalmente viene suddivisa in due triangoli, un triangolo superiore e un triangolo inferiore. In questa diapositiva vediamo come i margini laterali della losanga di Michelis possono essere visualizzati in quelle che sono le fossette di Venere che si evidenziano nella schiena della donna, soprattutto nella posizione seduta. Dunque, la losanga di Michelis presenta ovviamente un diametro verticale che misura all'incirca 10-11 cm e un diametro trasversale che misura all'incirca 9-10 cm. Ora, la losanga di Michelis può avere varie forme, come dicevamo, e in base alle forme possiamo avere un'idea di che tipo di bacino noi abbiamo davanti. In particolare, una losanga che è solitamente quadrilatera, quindi con gli angoli approssimativamente tutti uguali, è indicativa di un bacino di tipo ginecoide. Una losanga invece a forma allungata è caratteristica dei bacini androide e dei bacini antropoide. Ora, c'è da dire che mentre il bacino androide è sfavorevole per il parto, il bacino antropoide è favorevole, quindi non ci viene di grande aiuto, ma quantomeno ci può escludere la presenza di un bacino ginecoide. Infine, la losanga che si presenta con un angolo superiore molto allargato rispetto all'angolo inferiore è caratteristica di un bacino platipelloide e ci deve subito mettere in allerta nel momento in cui vediamo una losanga similfatta in travaglio di parto, perché il bacino platipelloide è un bacino che è altamente sfavorevole per il travaglio di parto. Un altro repere semiotico che dobbiamo andare a valutare nella donna e che possiamo farlo, e anzi dovremmo farlo in ogni donna in travaglio di parto, è l'angolo sottopubico. L'angolo sottopubico normalmente misura nella donna all'incirca 90-100 gradi. Tale angolo, se misura 90-100 gradi, può essere apprezzato mettendo sulle due spine ischiopubiche il dito indice e il dito pollice della stessa mano. Viceversa, se tale angolo viene sottinteso tra il secondo e il terzo dito, è un angolo che è molto ristretto, e normalmente questi quindi misura all'incirca 70 gradi, ed è un angolo che è sfavorevole per il parto. Infine, come già avevamo accennato nella descrizione dello stretto inferiore, un altro diametro che noi dobbiamo andare a valutare è la distanza bituberosa, ovvero la distanza tra le due tuberosità ischiatiche, che si apprezza ponendo banalmente un pugno tra di esse con la paziente in posizione ginecologica. Vediamo adesso come vengono classificati i bacini. Dunque, la classificazione attualmente adottata in ginecologia ostetricia del bacino femminile è quella di Col 2 L. Moloi, classificazione che è dei primi anni 30 del 1900 e che non è mai più stata rivista. Tale classificazione fu fatta, pensate bene, con l'analisi di soltanto 30 bacini su cadaveri. Nessuno poi ha più rivisto tale classificazione, se non negli ultimi anni alcuni studi radiologici utilizzando risonanze magnetiche, ma che comunque sono andati a confermare che il bacino femminile si orienta all'interno di queste quattro tipologie di bacini. Questa immagine è quella proprio ripresa dal lavoro originario di Col 2 L. Moloi. Come vediamo, loro distinsero il bacino femminile in un bacino ginecoide, in un bacino antropoide, in un bacino androide e in un bacino platipelloide. È bene precisare che questi bacini non sono dei bacini viziati, ma sono delle conformazioni normali del bacino femminile. E ovviamente una donna può avere anche un bacino che è intermedio a queste quattro tipologie di bacino. Andiamo ad analizzarli uno per uno. Il primo è il bacino ginecoide, che si riscontra soltanto nel 50% delle pazienti, quindi non è vero quello che normalmente riscontriamo nelle visite di tutte le cartelle che si trovano in sala parto, dove praticamente il 100% dei bacini viene classificato come bacino ginecoide. Il bacino ginecoide si caratterizza per la presenza di uno stretto superiore che ha una forma piuttosto rotondeggiante, come vedete, con un diametro trasverso che è leggermente più lungo del diametro anteroposteriore. Presenta uno stretto medio piuttosto pervio, sia nei diametri trasversi che nei diametri anteroposteriori, e l'angolo sottopubico è un angolo molto aperto che misura all'incirca 90-100 gradi. Il bacino androide è un bacino che si riscontra nel 20% dei casi, quindi non poco, ed è un bacino che solitamente è sfavorevole per il travaglio di parto, per il parto spontaneo. Si caratterizza lo stretto superiore, in questo caso, con una forma a cuore. In particolar modo, tale forma a cuore fa sì che il diametro anteroposteriore sia piuttosto ristretto. Oltre ad essere ristretto il diametro anteroposteriore dello stretto superiore, troviamo ristretto anche il diametro trasverso dello stretto medio, mentre il diametro anteroposteriore dello stretto medio risulta essere permissivo. Per quanto riguarda invece l'angolo sottopubico, il bacino androide è un angolo sottopubico piuttosto ristretto, che misura all'incirca 70 gradi. Quindi, come dicevamo prima, può essere sottintese le due branche sottopubiche, poi gli schiopubiche possono essere sottintese mediante il secondo e terzo dito. Abbiamo poi il bacino antropoide, che si riscontra nel 25% dei casi, soprattutto nella razza negroide africana. Questi è caratterizzato da uno stretto superiore, che ha una forma piuttosto ovalare in senso anteroposteriore, con un diametro anteroposteriore piuttosto più pronunciato rispetto al diametro trasverso dello stretto superiore. Il diametro dello stretto medio è permissivo, ma non permissivo, come quello del ginecoide, mentre risulta molto ampio il diametro anteroposteriore dello stretto medio. Per quanto riguarda l'angolo sottopubico, è un angolo sottopubico permissivo, simile a quello del bacino ginecoide. Infine, abbiamo il bacino platipelloide, che si riscontra fortunatamente solo nel 5% dei casi, in quanto, dico fortunatamente, è un bacino che è molto sfavorevole per il travaglio di parto. Questi presenta un stretto superiore a forma ovalare, con un diametro anteroposteriore molto più piccolo del diametro trasverso, lo stretto medio risulta permissivo nel diametro trasverso e nel diametro anteroposteriore, e anche l'angolo sottopubico è molto aperto, anche più dello stretto, scusatemi, del bacino ginecoide. Il problema di questo tipo di bacino non è tanto lo stretto medio e lo stretto inferiore, ma quanto lo stretto superiore perché i diametri non sono permissivi per l'impegno della parte presentata. Andando a ricapitolare, quindi, nel bacino ginecoide, la testa fetale si impegna ovviamente secondo un diametro trasverso o uno degli obliqui e solitamente in un lieve asinclitismo. Il travaglio procede bene e solitamente quindi la prognosi è buona. Ricordo che questo qui lo troviamo nel 50% dei casi. Per quanto riguarda il bacino androide, invece, che si riscontra nel 20% dei casi, diciamo subito che la testa fetale si impegna ovviamente secondo un diametro trasverso, poiché essendo a forma di cuore il diametro anteroposteriore è molto ristretto e quindi l'unico diametro permissivo è quello trasverso. Solitamente è frequente un arresto nelle parti profonde del bacino, quindi intorno allo stretto medio, che vi ricordo era piuttosto ristretto, e quindi la prognosi per il parto vaginale è sfavorevole. Abbiamo poi il bacino antropoide, che si riscontra nel 25% dei casi, bacino antropoide dove normalmente l'impegno si ha in un diametro anteroposteriore, dato che è quello più permissivo. Vi ricordo che l'antropoide è quel bacino che ha una forma ovalare con il diametro anteroposteriore molto più pronunciato di quello trasverso. Solitamente non ci sono grosse difficoltà lungo la progressione del travaglio, è frequente la rotazione sacrale in questi casi e la prognosi comunque è buona. Infine, come dicevo, abbiamo il 5% dei casi che è il bacino platipelloide, dove l'impegno della testa fetale allo stretto superiore è veramente sfavorevole. Solitamente si riesce ad impegnarsi, si impegna in un asinclitismo piuttosto accentuato e ovviamente la prognosi per il parto vaginale è nettamente sfavorevole. Ecco qui un riepilogo dei vari tipi di bacini. Un movimento molto importante che noi dobbiamo conoscere nel gestire una donna in travaglio di parto sono il movimento di nutazione e di contronutazione. Tali movimenti, partiamo dal movimento di nutazione, questo è consentito mediante una rotazione del sacro su un'asse trasversale. Ora, in tali movimenti sono importanti quei legamenti che avevo detto nella descrizione anatomica dell'osso dell'anca quando parlavo della tuberosità iliaca e del legamento sacroiliaco. Allora, nel movimento di nutazione, normalmente il promontorio tende a portarsi in avanti mentre il coccige tende a portarsi indietro. In questo caso che cosa accade? Accade che questo spostamento porta consensualmente, appunto tramite questi legamenti che dicevo prima, ha le ossa dell'anca che tendono ad avvicinarsi all'interno del bacino nella sua porzione iliaca mentre la porzione ischiopubica tende ad allontanarsi. In questo caso che cosa otteniamo? Otteniamo che tutti i diametri dello stretto superiore vengono ad essere diminuiti mentre si vanno ad aumentare i diametri dello stretto medio e dello stretto inferiore. Questo meccanismo quindi è molto importante nel momento in cui noi vogliamo favorire la progressione di una testa che ha già passato lo stretto superiore. È ovviamente controproducente nel momento in cui la andiamo a fare allora quando la testa si deve ancora impegnare nello stretto superiore. Diametralmente opposto è il movimento invece di contronutazione ovvero nel movimento di contronutazione il promontorio si sposta verso l'indietro mentre il coccige si sposta in avanti. Facendo ciò che cosa accade? Accade che l'osso dell'anca nella porzione iliaca viene spinta all'infuori mentre la porzione ischiopubica viene spinta verso l'interno del bacino. In questo caso ovviamente avremo l'opposto di quanto avviene nel movimento di mutazione ovvero aumentano tutti i diametri dello stretto superiore mentre vanno a diminuire i diametri dello stretto medio e dello stretto inferiore. In questi casi quindi noi dovremo cercare questo tipo di movimento ogni qualvolta abbiamo una difficoltà all'impegno della parte presentata a livello dello stretto superiore. Grazie a tutti.